non solo Siamo due legati dentro, da dove puoi partire? Bravo. Vogliamo parlare degli usi alternativi? Di cosa? Deodorante. Eh? È molto interessante, un oggetto utilissimo soprattutto in questi giorni. Sì, sì. Per il suo uso normale, però uno magari ce ne ha in più. Sì, ricordiamo che di deodoranti ce n'è di due tipi. Non potrebbero procurarvi vesciche, spruzzate dietro il pallone, punti critici, indodoranti, vedrete che, eh, sì, 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 tutto con questa che è la mia preferita, qual è... il momento di erano voi che sono armati nel suo contenitore certamente la mia rivista un porticino a padro ecco il suo nottivo un porticino a padro e servizio Proprio fresca fresca ha fatto saltare anche una messa quella del primo luglio alle 18 nella chiesa che si trova a pochi passi dal Modena Park però senza polemiche ci tiene They're way إ tourists in the dark with me They're Speaking America Proprio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.